ben trovati al tg sordi di lecce 7 un 23enne di lecce cristiano spedicato è morto in un tragico incidente stradale avvenuto in città il giovane era a bordo del suo scooter sulla circonvallazione quando è stato travolto da un'auto tragica sorte anche per un operaio trentenne di carmiano precipitato da un terrazzo durante alcuni lavori disagi in tutto il salento per il maltempo che si è abbattuto negli ultimi giorni le zone più colpite nel sud della provincia due automobilisti sono stati salvati ad ugento dopo essere rimasti bloccati nei mezzi sommersi dall'acqua entro il 2018 inizieranno i lavori per la realizzazione della rotatoria del bar rosso e nero per velocizzare i tempi il comune ha deciso di utilizzare un progetto già disponibile non sarà eliminato invece il sottopasso di via le leopardi che sarà messo in sicurezza contro possibili allagamenti ancora una volta la puglia sale sul podio della classifica stilata da lega ambiente e touring club nella guida blu il mare più bello 2018 le cinque vele sono state assegnate ad otranto melendugno polignano a mare tante novità per il festival della notte della taranta 2018 il calendario prevede 19 tappe il primo concerto si terrà ad otranto il 3 agosto il concertone finale sarà invece il 25 a melpignano terminillo in provincia di rieti ospiterà il ritiro precampionato del lecce dal 15 al 29 luglio intanto mister liverani pensa già alla prossima stagione dovremo migliorarci in tutti i reparti con giocatori che conoscano bene la serie b